Hai letto l'articolo di Pocket? No, questo mese no Parioli Pocket, Vigna Clara Pocket non c'è ancora... Casal Bruciato Pocket no Devo parlare con Quincy, devo parlare con il direttore perché secondo me Casal Bruciato Pocket potrebbe avere potenziale Sì, gran potenziale Secondo testo male, amici di Pocket io farei Villa Guardiani Pocket e Casal Bruciato Pocket tutto in snazzicant slang secondo testo male abbiamo già anche il marinaretto lui sarebbe venuto dalla barca la sal Bruciato Pocket